Come si usa EasyPHP Se dovete ancora installare EasyPHP, guardate questo tutorial. Per prima cosa, bisogna avviare l'applicazione. È sufficiente fare doppio clic sull'icona del programma. Per aprire il pannello di amministrazione, bisogna visualizzare le icone nascoste in basso a destra nella barra Start. Schiacciare sull'icona di EasyPHP e successivamente su Open Dashboard. A questo punto si aprirà una pagina web con il pannello di amministrazione. Prima di avviare il server, conviene selezionare la cartella nella quale si trovano i file da testare. Per fare questo, bisogna premere Add Directory. Successivamente, nel primo spazio, inserire il nome del server. E nel secondo, il percorso della cartella. Io scelgo la cartella del mio sito. Per trovarlo, è sufficiente recarsi nella cartella in Esplora risorse e selezionare la barra copiando il testo. A questo punto si può avviare il server offline. Bisogna premere il pulsante Start sotto HTTP Server, in alto a destra. A questo punto si può scegliere tra due server, Apache o Nginx. Io sceglierò Apache, il più diffuso e conosciuto. Nella pagina visualizzata, è possibile scegliere la versione del codice PHP o la porta del server. Ora è sufficiente fare Start. Se si presenta un errore, bisogna provare a cambiare la porta e, se persiste, si può reinstallare il programma, prestando attenzione ad aver precedentemente installato Visual C++. Per aprire il file da testare, è sufficiente tornare sulla dashboard e premere sul nome del server che abbiamo precedentemente inserito. Grazie per aver seguito questo tutorial. Per domande o ulteriori informazioni, visitate il sito www.htmlpertutti.altervista.org